È un Mario Draghi in versione gladiatore, a parlare dopo il vertice della Banca Centrale Europea che ha lasciato i tassi invariati ai minimi storici. Prima da un colpo ai governi che non fanno riforme strutturali, ricordando che negli ultimi anni l'Eurotower è stata l'unica a sostenere la crescita del blocco con la sua politica monetaria. Poi affila le armi, spiegando i criteri con cui da giugno la BCE comprerà bond di società non finanziarie. Se un'azienda possiede una banca, ma la casa madre non è una banca, come nei casi delle assicurazioni, allora è idonea. Se la casa madre è una banca, allora non sono idonee. Il rischio sarà condiviso, le scadenze potranno arrivare a 30 anni, il limite acquistabile di una singola emissione sarà il 70%. Quindi il contrattacco alle critiche arrivate da Berlino e in particolare dal ministro delle finanze Wolfgang Schäuble, che aveva puntato il dito contro la politica dei tassi a zero prolungati. Resteranno a questi livelli o addirittura inferiori ben oltre la fine del programma di acquisto di titoli, ha detto Draghi. Noi obbediamo alla legge, non ai politici, perché siamo indipendenti, come stabilito dalla legge. Smentite infine le voci su una discussione all'interno del Consiglio sull'ipotesi di finanziamenti diretti alle famiglie dell'Eurozona.